Con una giornata di festa particolarmente gradita e partecipata dai bambini è stato inaugurato a Silla di Sassano, presso i locali dell'Associazione Mutua Orchidea, il centro estivo attivato presso il centro di welfare comunitario Nicola Di Brizzi, nell'ambito del progetto Giovani Presi Sociale. Nei giorni scorsi la segreteria del centro di welfare comunitario era stata letteralmente presa d'assalto dalle famiglie di Sassano e dei comuni limitrofi e le richieste di partecipazione al centro estivo avevano superato le aspettative, tanto che alla fine sono stati ben 23 bambini ammessi al centro rispetto ai 20 previsti, proprio per venire incontro alle esigenze della comunità locale. Allo stesso tempo il centro estivo consente l'impiego nel ruolo di animatori di quattro ragazzi del posto che sono stati selezionati da un team di esperti. Pur avendo già esperienze in questo settore, per questi giovani si tratta della prima occasione di lavoro strutturato nel Vallo di Diano. In generale al momento sono già 11 gli operatori coinvolti nelle attività del centro di welfare comunitario Nicola Di Brizzi, un numero che è destinato ad aumentare con le altre attività previste nell'ambito del progetto. Comincia ad essere tangibile e reale quello che abbiamo in mente, ma soprattutto cominciamo a far impegnare dei giovani in modo davvero come opportunità lavorativa, che sono gli animatori in questo caso del progetto, ma anche gli animatori di rete che questo progetto lo hanno promosso. Oggi è una festa di inaugurazione, il servizio centro estivo inizia lunedì, abbiamo più di 20 bambini iscritti e 20 bambini era il massimo che avevamo previsto e quindi è un progetto in realtà di cui siamo molto lieti perché la comunità sassanese, in modo particolare quella di Silla, ha risposto con entusiasmo alle nostre proposte. Oggi qui con l'associazione Archidea che fa partire questo campo estivo, quindi una politica delle famiglie che viene anche dai privati, così come facciamo anche noi per la parte pubblica, naturalmente c'è molta richiesta su queste cose, un solo ente, una sola associazione non riesce a coprire tutte queste richieste e tutte queste necessità. Siamo contenti anche di partecipare insieme qui all'associazione Archidea a questo nuovo servizio per le famiglie, a questo campo estivo per i bambini, che c'è tanto bisogno nelle famiglie, una politica attenta su quello che è i territori, fatta sia dai privati che sia da parte pubblica per quello che noi riusciamo a garantire per i nostri concittadini. La risposta è stata importante, notevole. Questi momenti per noi non sono solo di svaghe di gioco, ma ad esempio una bellissima iniziativa, credo, in questo mese sarà quella di giocare e imparare l'inglese, quindi a questi bimbi noi daremo anche questa possibilità, quello di studiare e di imparare una lingua che può essere tanto importante per il loro futuro. Il campo estivo è titolato Benvenuti con Peter Pan, le varie attività che si faranno saranno di Art Attack, faranno vari giochi con l'inglese, cioè faranno il corso di inglese con una madrelingua e poi si divertiranno molto anche cucinando.